Arrivava tipo pioggia, che però non era pioggia ma erano fiamme, erano materiali incandescente. Ho visto il fuoco arrivare da sopra gli autotreni e dalla parte di dietro rispetto al camion in cui era lui. Ha visto il sistema antincendio entrare in funzione? Neanche una goccia di acqua dai sistemi antincendio. Leonidas era nel garage della Norman Atlantic quando è scoppiato l'incendio. Era sceso per prendere del tabacco dal camion. Si è trovato nell'inferno dal quale è riuscito a uscire calandosi con una cima del traghetto. È finito in una scialuppa, lui fortunato più di altri che non ce l'hanno fatta, come la donna che urlava, non voglio morire. Sentivamo la voce di una donna che chiedeva aiuto e non riuscivamo a vederla. Probabilmente era sotto la zattera da qualche parte e non la riuscivano a vedere. Sentivano solo la voce che gridava e poi la voce non l'hanno sentita più.